Mentre molti altri sono convinti che oggi un paese come l'Italia, un paese come l'Ungheria sono di dimensione irrilevante su scala mondiale e per realizzare i loro obiettivi hanno bisogno di una sovranità europea alla quale partecipare incisivamente e che funzioni e non di una ormai irrecuperabile sovranità nazionale. Faccio l'esempio di quello che sarà il grande tema dei prossimi mesi e anni. Vogliamo lasciare che i big tech, le grandi società come Amazon, Apple, Facebook, eccetera controllino il mondo e gradualmente cambino la vita democratica dei paesi o vogliamo avvalerci degli strumenti che esistono come l'antitrust per mettere sotto disciplina equa ma necessaria anche per la democrazia e non solo per l'economia questi giganti. Ecco